Ecco la battita Naples contro Mettitù, arbitra Cuccaro, ci prova il Mettitù, palla fuori, il Naples scusate, Giancotti per Cantelmo, ancora Cantelmo, Giancotti prova il tunnel, ma Sanino gliela mette fuori, Giancotti batte, Sanino, Alfonso gliela mette fuori, Sanino si appresta a battere, fuori, ci aveva provato il Naples, Giancotti e ancora Sanino. Chiamata distanza, Sanino il tiro, ancora Sanino, prova il numero, palla in mezzo per Lavezzi, Lorenzo, Sanino, Cantelmo, per Alfonso cerca il tiro di punta, non va. Alfonso, e c'è il gol di Alfonso, incredibile, 1-0 per Mettitù. Battite voi, battite voi, battite voi, battite voi. Sì sì sì, ho sbagliato prima. Palla per i Naples, Alfonso gliela mette fuori. Ecco l'autore del gol, a chi lo dedichi? A lui. Come ti chiami? Alfonso dedica il gol al Napoletano della squadra avversaria. Palla per Lavezzi, tiro fuori. Ecco Giancotti, sempre lui dalle retrovie, imposta il gioco. Si affida alle sue doti tecniche la squadra. Provate il tiro a giro, Alfonso. Quanto sai? Due minuti, va a giro all'altro campo. Passiamo all'altro campo.